Un altro furbetto del reddito di cittadinanza è stato smascherato dalla Guardia di Finanza di Pesaro. Questa volta ad essere scoperto dalle fiamme gialle è stato un 27enne che nonostante fosse formalmente residente all'estero dal settembre 2018 ha inoltrato la domanda per il rilascio del sussidio dichiarando di abitare nel pesarese da almeno due anni. Con questa dichiarazione fasulla è riuscito a mettersi in tasca 7.500 euro di reddito di cittadinanza. I controlli delle fiamme gialle non solo hanno appurato la falsa attestazione della residenza e del soggiorno in Italia ma hanno pure riscontrato come il 27enne in questione risultasse irreperibile dal 2014 dal luogo di residenza e che dal 3 settembre del 2018 risulta iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero in quanto si è trasferito in Marocco. Il furbetto è stato subito segnalato all'autorità giudiziaria per aver indebitamente percepito erogazione ai danni dello Stato ed è anche stato segnalato all'Inps per la revoca del sussidio e per il recupero dei 7.500 euro. Per la Guardia di Finanza si tratta di un'altra appropriazione indebita destinata alle fasce più deboli smascherata a due settimane dall'episodio di un cittadino di Vallefoglia che si era messo in tasca 12.000 euro di reddito di cittadinanza ma si era dimenticato di presentare nella dichiarazione ISEE 170.000 euro di fortunate vincite al gioco online nel giro di due anni. Attenzione ai furbetti, attenzione alta delle fiamme gialle anche nella lotta all'abusivismo commerciale, argomento che gli è restato oggetto di confronti in Confcommercio fra il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Enrico Blandini e il direttore provinciale dell'Associazione di Categoria del Commercio Amerigo Varotti.